...ma in quel senso noi siamo partiti abbastanza con le nostre... Martina, oggi non era sicuramente facile riuscire a riuscire a vincitore e a punteggio a Piero. Pascandici, così invece è, Bergamo, che insomma ha un'aroglia di marcia importante. Ha subito le prime giornate, ha incontrato le due squadre fiorentine, arrivano a sei punti in finale. Sì, la Toscana per ora ci ha portato bene, la mia ragione, quindi sono contento. No, a parte gli scherzi è inizio campionato, quindi penso che un po' tutte e due le squadre, tutte le squadre del campionato, saranno cercando un po' il loro equilibrio. Quindi è difficile valutare quello che poi realmente sarà il valore di una squadra. Sicuramente venire a vincere qua è importante, perché sulla carta Scandici è una delle squadre più forti del campionato, ho fatto una campagna di acquisti straordinaria, quindi sicuramente venire a vincere qua sarà difficile, soprattutto anche tra un mese, due, quando le squadre avranno più degli equilibri, un po' più saldi. Quindi siamo felicissimi di aver portato lì appunti, faranno conto, un piccolo tastellino per il nostro futuro. Grazie.